C'era un popolo nell'antichità che neanche la morte riusciva a separare dalle armi. I Marsi, figli di Marte, dio della guerra. Fu solo grazie a loro, spino dorsale dell'esercito romano, se Roma conquistò il mondo. Uno stupefacente reperto spunta dal nulla. Il lago Fucino l'aveva tenuto nascosto per secoli, ma adesso rischia di cadere nelle mani sbagliate. Un incredibile viaggio nel tempo alla scoperta delle leggendarie gesta del popolo marzo, del loro culto per la dea Angizia e del loro simbolo di morte. Benvenuto ad Alba Fucens, la più grande colonia militare della Roma Repubblicana. Era risaputo che per tenere testa a un guerriero marzo servivano quattro legionari romani. Non c'è nulla di più definitivo delle cose provvisorie. Fate proseguire le stelle. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.